Sì, abbiamo mancato questa opportunità nel quarto set, nel quinto loro hanno cominciato a battere bene, ma anche lì secondo me non eravamo con la testa, perché non è possibile che Podrashen imbatte in zona 1, che non è la sua battuta, e ci mette due ace su slash, non è possibile per me. Poi devo vedere ancora con mente fredda, magari facendo giocatore, questa cosa qua per me è inaccettabile, per cui adesso la devo rivedere ancora con la mente fredda, rianalizzarla e vedere dove possiamo fare meglio, perché adesso domenica ci aspetta un'altra battaglia così. C'era Amarico, ma è comunque una partita che testimonia la crescita di Verona in tutti i settori? Sì, però ho capito, ma anche lì per poco non abbiamo preso punti a Modena, adesso per poco non abbiamo vinto, speriamo che ci scrolliamo addosso, è mancato poco. Adesso tra un po' cominciamo a prendere anche delle vittorie contro le grandi, perché secondo me anche con quello che abbiamo fatto stasera abbiamo le carte in regola per poterlo fare, poi magari non vediamo la palla domenica, questo è possibile, però comunque dobbiamo avere questa mentalità di andare, a prescindere chi è d'altra parte, e fare i punti con tutti.